Multa salata negli Stati Uniti per l'industria giapponese Takata, la casa produttrice di componenti per auto, ha ricevuto un'ammenda di 70 milioni di dollari per gli airbag difettosi. Takata ha messo nei guai 11 altre società, costringendo il ritiro di oltre 30 milioni di auto, ma la cosa più grave è che il difetto di produzione ha provocato 8 morti. Gli airbag prodotti da Takata tendono ad esplodere, i frammenti del materiale colpiscono i passeggeri dell'abitacolo. La società, anziché avvisare le autorità di regolamentazione sulla sicurezza del possibile rischio, avrebbe chiesto ai tecnici di ignorare i risultati dei test. Un'ulteriore multa di 130 milioni di dollari è già stata inflitta a Takata nel caso non sia onorata la prima tranche. Un'ulteriore multa di 30 milioni di dollari è stata inflitta a Takata nel caso non sia onorata la prima tranche.